Supponiamo di voler creare una forma con una misura ben precisa in pixel. Come avrete potuto notare nel momento in cui creiamo una forma, a differenza di Photoshop e Illustrator, non ci viene fuori la misura in pixel della forma che stiamo creando. Cosa ancora più complicata, nel momento in cui andiamo a trasformarla, possiamo sì agire sulla scala, però abbiamo qui dei numeri in percentuale. Allora come facciamo a dare una misura precisa in pixel alla nostra forma? La risposta è dentro, nelle proprietà del contenuto. Abbiamo rettangolo 1 e abbiamo tracciato. E qui abbiamo le dimensioni, abbiamo una catena che linka il rapporto tra i due lati, ma possiamo toglierla e in questo modo possiamo dirgli esattamente le dimensioni che vogliamo. Dopodiché possiamo rilincare lato lungo e lato corto e in questo modo abbiamo la nostra forma esattamente delle dimensioni che volevamo. Grazie. Grazie.